Lettura dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo, mentre il Signore Gesù entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa da agitazione e diceva «Chi è costui?» e la folla rispondeva «Questi è il profeta Gesù da Nazareth di Galilea». Gesù entrò nel Tempio e scacciò tutti quelli che nel Tempio vendevano e compravano. Rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe e disse loro «Sta scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, voi invece ne fate un covo di ladri». Gli si avvicinarono nel Tempio ciechi e storpi, ed egli li guarì. Ma i capi dei sacerdoti e gli scribi, vedendo le meraviglie che aveva fatto e i fanciulli che acclamavano nel Tempio osanna al figlio di Davide, si sdegnarono e gli dissero «Non senti quello che dicono costoro?» Gesù rispose loro «Sì, non avete mai letto dalla bocca di bambini e di lattanti, hai tratto per te una lode?» Pace bene, amici e ben ritrovati a questo nostro appuntamento con la liturgia della parola. Il Vangelo odierno, appena ascoltato, lo possiamo suddividere in quattro parti. La prima parte è Gesù che entra a Gerusalemme e la folla si chiede «Ma chi è costui? Ma il profeta è Gesù di Nazareth?» Probabilmente avevano sentito parlare, la fama aveva accompagnato Gesù, lo aveva preceduto anzi e tutti lo riconoscevano, avevano in qualche modo ascoltato tramite altri o magari constatato per esperienza diretta i prodigi che operava. Un secondo momento, una seconda parte, troviamo Gesù dentro il Tempio. Avete fatto della casa del Padre mio una spelonca di ladri e di venditori invece che una casa di preghiera. Ecco, è una reazione violenta. Il Tempio serviva come segno, come richiamo di un popolo al suo Dio. Era un qualche cosa di affascinante. Domenica scorsa abbiamo visto appunto che Gesù profetizzerà che di questa bella costruzione non rimarrà pietra su pietra. Ma fino a quando è eretto, esiste e sussiste, il Tempio, la Chiesa, l'edificio è un richiamo, è un luogo e deve essere un luogo di preghiera. Non deve essere strumentalizzato per delle finalità diverse e magari perverse. Per vendere, per trafficare denaro, per arricchirsi. Gesù si arrabbia di una santa ira. Un terzo momento lo troviamo a operare miracoli, a guarire le persone che si trovano in uno stato di malattia e poi vediamo che viene osannato come il figlio di Davide. Di fronte a questa entrata solenne, a questo modo di fare di procedere di Gesù Cristo dentro la città santa, dentro il cuore della città santa, che è il Tempio di Gerusalemme, alcuni oppositori, i farisei, i dottori della legge, come sempre, si oppongono. Di fronte soprattutto agli osanna che riceve e presentano a Gesù un appunto che può essere anche motivato a avere una sua giustificazione. Ma non senti che cosa dicono? Ma stanno dicendo una cosa assolutamente non vera, perché per loro non era assolutamente vero che Gesù fosse il Cristo, il Messia. E Gesù che cosa risponde? Se non urleranno e canteranno questi bimbi, la pietra o le pietre e i sassi parleranno per loro. E non avete ascoltato che dalla bocca dei bimbi e degli innocenti esce un inno di lode. Cioè è come se Gesù dicesse. Ma persino i bambini, persino la povera gente non istruita, ignorante, che non conosce la legge, che secondo i vostri criteri non è degno della salvezza proprio perché non conosce la legge, costoro hanno capito chi sono. Hanno intravisto più che capito, perché è difficile capire il personaggio Gesù di Nazareth, come si presentava allora e come si presenta oggi vivo, reale, ma nella fede. Ma persino coloro che voi ritenete non dentro alla categoria dei salvati hanno intuito qualcosa e voi non capite niente. È un appunto che Gesù fa ai suoi oppositori duemila anni fa ed è un appunto che noi dobbiamo accogliere, perché magari anche per noi c'è stato un cammino di fede, lo abbiamo conosciuto, abbiamo letto tanti libri, siamo sempre andati in chiesa, abbiamo sempre partecipato al catechismo e magari insegnato catechismo e anche noi ci troviamo di fronte al Signore con dei dubbi, con delle perplessità, con delle incoerenze, con delle incredulità, con una incapacità radicale di non riuscire ad aderire alla sua persona, alla sua parola, alla sua chiamata. Allora il Vangelo di oggi dobbiamo leggere lo situato dentro una storia vissuta dal Signore duemila anni fa, ma il Vangelo di oggi dobbiamo calarlo dentro la nostra storia e chiederci ma chi è costui? È il figlio di Dio, diciamo noi, è il Dio che si è fatto carne e allora come tale merita, esige una sequela. Chiediamoci se noi apparteniamo veramente ai seguaci di Gesù Cristo, se siamo autenticamente cristiani, se l'abbiamo accolto nella nostra vita e lo odiamo nella semplicità della fede. Pace bene amici, a risentirci e alla prossima domenica. Grazie a tutti.